che ha lavorato con ogni anno a questa iniziativa, all'ufficio categorie, domani dell'oro, Fabrizio Perpaoli che si è fatto giro in tutti i comuni, il nostro responsabile del territorio, la segreteria, la direzione, insomma tutti quelli che poi alla fine hanno contribuito affinché ci sia questo importante risultato, l'iniziativa che sicuramente viene sempre in qualche misura richiesta, ogni anno ci poniamo questo problema se ripeterla e basta un semplice veloce sondaggio tra le nostre imprese alla domanda, ma siete ancora interessati e disponibili? La risposta immediata è sì, subito, anzi guai a voi che ho fatto, è una minaccia per cui a questo punto come ogni anno abbiamo raccolto e il numero dimostrano sicuramente dei dati molto positivi importante.